è interessante questo nuovo logo del rettile da google in occasione del san valentino qui vediamo praticamente questi due individui che sembrano tutte due blu per essere politicamente corretti riguardo al nuovo modo di concepire diciamo la relazione ovviamente non è che hanno fatto che sono una donna un uomo no e poi c'è anche un play è come se il rettile spinge il play e i zombie il rettile dice che il 14 febbraio dovete comprare regali altri cazzi e i zombie lo fanno l'unica differenza tra queste due sagome che questo qua è un po più ciccione ma comunque sono di colore blu quindi sembrerebbe due uomini che si mettono insieme e poi anche la testa questa testa così quadrata diciamo un po come sono stati quadrati diciamo e se fossi sean ross ci vedrei anche la concept of four che è il quadrato quindi square squadra e poi il compasso che fa il cerchio però non lo sono quindi non lo faccio buon san valentino paio